Dopo l'esperimento dell'edizione estiva quest'anno, Mister Bianco si prepara al Carnevale 2023 del prossimo febbraio. L'associazione New Age ha aperto le porte della propria sede per un'inaugurazione molto partecipata dai cittadini mister bianchesi. Presente anche una delegazione dell'amministrazione comunale. La star dell'evento inaugurale di una nuova stagione di intenso lavoro di preparazione, allestimento e dialogo degli attivi associati di New Age è stata Lavica, la maschera femminile arrivata da Cireale con la preziosa collaborazione della Fondazione Carnevale del Comune Acese. Una festa che apre anche ad altre iniziative come ci ha spiegato il presidente dell'associazione Alessandro Russo. Già a parte i nostri partecipanti veterani che sono all'opera, anche quelli nuovi che quest'anno già dal prima battuta in questi dieci minuti di apertura si stanno scegliendo i propri costumi, sono molto carichi per questa edizione. Anche se possiamo dire abbiamo un po' di rilento per quanto riguarda tutto quanto la logistica, però sono ben carichi per partire per l'edizione 2023. Vi aspetta tutte le sere e venici a trovare in sede. Quest'anno abbiamo scelto questo tema perché dopo il grande successo, chiamiamolo, che lo scorso anno ci ha visto con tanti colori, ne abbiamo scelto uno fra tutti quelli e vogliamo portare questo tema che è il giallo su strada, con la speranza di far spegnere le luci della strada e accenderle noi. La nostra attività parte a regime da ora e ci fermeremo il giorno che saremo su strada. Vi ricordo anche che il pannevale di mister bianco quest'anno sarà dal 10 al 21 febbraio e le date già stabilite per uscire su strada con notari e costumi sono il 12, il 19 e il 21 e il 18 ci vedrà sul pacco in passarello. Grazie. Grazie.